Che rimpasto sarà? E sarà un vero e proprio rimpasto. Finita la settimana santa, il sindaco, come anticipato, dovrà mettere mano alla giunta. Ci sono già le porte scorrevoli pronte per alcuni assessorati e altre, a sorpresa, rimarranno senza ricambio. Cosa che probabilmente susciterà reazioni e polemiche nell'opposizione. Sarà un aggiustamento, qualche innesto, una modifica di deleghe, alcuni verranno sgravati da una mole di lavoro eccessiva, altre derreghe verranno integrate. La certezza è che niente avrà a che fare con tutto quello che si è detto nei mesi passati. Sia per il recente passaggio di due consiglieri comunali al partito della Meloni, Fratelli d'Italia, Gianluca Bruzeniti e Toti Petrantoni. Dunque niente nuovo gruppo consigliare, anche perché per fare un gruppo ci vogliono sempre tre consiglieri. E probabilmente sarà una rimodulazione tutta firmata a Gambino, niente quote esterne ed interne al partito. Ritorno un po' di fermento tra la maggioranza, ci sono ancora aspirazioni varie. Pare che tuttavia sono state placate, secondo i ben informati, nelle ultime riunioni tra il sindaco e la maggioranza. E se qualche segnale si deve cogliere, c'è quello dato dal viceministro sottosegretario Giancarlo Cancelleri durante il giovedì santo. Mentre tutte le autorità, politiche e militari, sono saliti, invitati dal sindaco in Sala Gialla per un saluto, lui è rimasto giù. Nessun passaggio a quanto pare. Un paio di settimane comunque al massimo e la nuova giunta sarà presentata alla città. Grazie. Grazie.